Ciao a tutti, ho visto questa cosa simpaticissima in un video su internet e ho deciso di provare a rifarla. Vi servirà del cartoncino, della carta, insomma cartoncino leggero, una penna, una forbice e una cannuccia. Allora, vediamo. Anche io ci posso aiutare. Sì, allora, guarda. E io invece sono a Sissi. Esatto. Non so se sentite le voci di Sissi e Moka, che gli ho detto, mi raccomando, state zitte che faccio un video. Sì, sì, mamma, non ti preoccupare. Ecco qua, prendete un pezzettino di carta, lo tagliate, anzi è meglio piegarlo dalla parte dove è colorato, così. Poi si ripiega così. Poi così. Vai, tu fammi il sonoro. Così, così. Ok, e così. Poi? Poi. Con la forbice gli diamo una forma un po' più arrotondata e tra poco scoprirete il perché. Ok, va bene così? Sì, sì. Sì, sì. Poi si apre. Ed ecco a voi una magia. Allora, deve restare così, con la schiena curva. Fai tu gli occhi e la bocca? Tieni. Vai, qua nel primo. Vai. Ok. E adesso fai vedere come funziona. Vai. Da, da qua. Dai. 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 Aspetta. Così. Con una cannuccia soffiate, fate soffiare i bambini sopra la schiena forte. E vedrete il bruchetto muoversi da solo. E questo è il risultato finale che mamma vi fa vedere come si fa. Vedete? Deve arrivare fino al cartoncino. Ciao. Grazie a tutti